Abbiamo ora un'occhiata alla mini guida degli apparati bluetooth la prima cosa che c'è da sapere è che per collegarsi agli apparati bluetooth e per conoscere nel nome le caratteristiche è necessario concedere alla mia app il permesso di collegarsi a dispositivi nelle vicinanze il cosiddetto permesso Nearby Device o dispositivi nelle vicinanze quindi prima cosa, siccome io qua ho ancora a caso proprio un Android 12 consento ok, l'auto ha consentito come vedete lui sa che abbiamo consentito al permesso ecco, ora proviamo a collegarci a un apparato innanzitutto accendiamo il bluetooth poi dopodiché io ho un auricolare per sole e telefonate ecco, le tipologie di device sono sostanzialmente due come potete leggere nella leggenda i dispositivi multimedia come per esempio le nostre cuffiette da running nelle quali possiamo, diciamo, ascoltare la musica in canale diretto e poi quelli in emulazioni telefonate come può essere un autoradio o appunto auricolari per sole e telefonate che ai quali si può inviare un audio dall'esterno solo simulando una telefonata bene, ecco in questo caso noi abbiamo detto che le mie cuffiette sono per sole e telefonate quindi deve essere un tipo in emulazione di telefonata ok, dovrei essere connesso a questo punto ecco, adesso è collegato in modalità multimedia e ora l'ho collegato in modalità telefonata questo, ecco, lo possiamo vedere poi dalla sezione bluetooth ecco, lo vedete la prima BT devices in full emulation e che c'è anche il dispositivo here, che è quello che ho collegato adesso e me l'ha compilato, come vedete in maniera automatica bene, torniamo a noi a questo punto posso fare la prova e vi assicuro che l'ho sentito nelle mie cuffiette ok, fatto ricordate, è molto importante che qui, se siete in esperti cominciate a collegarvi ai dispositivi importanti nella maniera corretta dopodiché, quando sarete più esperti andrete a metterli diciamo, nelle opzioni corrette ecco, 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 ecco